salve amici fratelli della cobrega come state? posso? ho mangiato degli spiedini quando si vuol dire vi faranno lo spiedo mentre stavo inserendo adesso è stata inserita si trova ai 1080p hd la mia video recensione molto sui generi è molto particolare questo film riesumato pescato dalle memorie di people i know dicevo sono stato tempestato assillato tormentato da un solito personaggio fake che mi ha mandato due missive nei commenti naturalmente da me cancellati ma non per bigliacchiaccate forse sono altro un esempio suddividere e far sì che si siano create due fazioni opposte no non politiche ma generate dalla politica in merito al green pass siamo l'unica nazione che ricatta le persone ma io sono stato vaccinato ma sì sono stato un po contro la mia volontà perché dovevo recarmi al festival di venezia ora dicevo dei commenti inappropriate di chi vaneggia delira fantastica o le fantasticherie mi allestisce deliri la mia persona anche sostenendo che io deliri delirio sostantivo delirare verbo allora poi naturalmente mi sintonizzerò ricorderò al titolo di questo mio video che non vuole essere affatto polemico quindi smentisco chi pensa che addirittura io abbia attaccato più che altro io provoco io punzecchio dimmi a lingua mi forcuta o tagliente le persone ed è giusto che le persone provochino me mi provochino però in una maniera che sia confacente ha significato stesso della parola provocazione deve essere buonaria e non ricattatoria non mendace e non cattiva e non sottintendere qualcosa che possa generare poi delle reazioni inappropriate o improprie o proprio invece giuste lapidari e sacrosante perché se non si reagisce a volte con vemenza si rischia di soccondere in questo tipo di società violenta anche a livello puramente rettamente verbale qualcuno all'uso dal mio passato scuro e addirittura mi ha scritto che frusciante ha da lavorare che mi caga e ricaga più che altro è giusto che non mi caghi come direbbe lui perché? perché io non mi comportai bene ma neanche lui si comportò in maniera diciamo propriamente signorile nei confronti perché vabbè poi vi spiegherò dicevo sarò esaustivo in merito voi che vi fregiate di chissà quali meriti vi pavoneggiate e ripeto delirate dietro una tastiera addivenendo a delle facili conclusioni dettate dalla vostra presunzione il presupporre o imporre il proprio pensiero all'altro riversandoglielo contro ma come ho fatto a imparare a parlare così bene ma me li preparo questi discorsi i discorsi di solito vengono diciamo enunciati dai politici ma sono stati allestiti o preparati da altri chissà da Ewan McGregor di Ghost Rider non Ghost Rider diciamo perdere Nicolas Cage e Johnny Blades ecco perché i politici sono di tantocci spesso che vi manovrano come dei burattini ma dietro ci sono a loro volta delle manovre occulte l'occultamento delle verità ora io non voglio occultare niente voglio svelarvi la verità affrusciante e largì anche risposto proprio una mezz'oretta fa quanto costano le video recensioni Patreon mi ha risposto lui ho risposto anch'io lui è stato preciso puntuale ecco in maniera appropriata ha scritto non è un pagamento è una donazione vabbè è un sofismo è un femminismo e io non voglio sindacare lui chiama molto la lotta proletaria i movimenti sindacalisti fruscianti in merito al suo operato e al suo diciamo magnificare fuori tempo massimo in maniera anacronistica la visione un po' operaia della vita allora dicevo gli pagai due recensioni da me chieste io non ricevo a differenza di ciò che è stato sostenuto la me ha censurato giustamente quanto è una bugia il reddito di cittadinanza arranco mi arrangio la belle meglio adesso uscirò con un nuovo libro venderà dieci copie quindi potrò buttarmi giù dal balcone e precipitare oppure chissà non morire a modi Burman Michael Keaton dell'imprevedibile virtù dell'ignoranza quindi queste persone ignoranti che asseriscono ammantandosi fra l'altro di un'aura proprio sopecca veramente volgare dovrebbero leggere di più dovrebbero informarsi e non ripeto essere così secchi veloci precipitosi nei loro giudizi impietosi allora mini recensioni Patreon di Smok e dello Spaventapasser per l'altro io ho già scrissi prima di chiedergli questo confronto recensore la mia recensione di questo capolavoro di Jerry Shensberg Palmadora Festival di Cannes ex equo credo del 73 con due magnifici attori Gene Hackman frusciante direbbe Gene Gnocchi no Gene a Hackman e al Pacino e va bene poi andai al Picasso quello è un programma di grafico mi casa qui a Bologna paga il biglietto 30 euro per assistere alla sua esibizione in cui parlò del cinema di Tsukamoto con l'occasione di Tetsuo sì quando inizia va a briglia sciolta frusciante incontenibile non lo ferma nessuno nessuno può contraddirlo o avanzare democraticamente anche un dubbio in merito alle sue argomentazioni a volte un po' troppo veraci ruspanti di quest'uomo pimpante molto un po' arrogante dicevo un'ora e mezza di Tetsuo ha parlato 20 minuti è andato a parare su Livorno su Paolo Verzi sulla sua moglie ecco allora poi accordi disaccordi siamo concordi prendiamo il concordo vogliamo altissimamente no? e oppure qualcuno vuole spezzarti e spaccarti la mente perché un demente come questi haters che parlano io reddito di cittadinanza no no io combatto per la mia libertà esistenziale e sono molto più giovane di frusciante quindi allora lui si è accasato lui è sposato lui ha scelto di vivere così non voglio ecco compiere delle dietrologie lui sostiene terzo mediato mi sono sempre domandato già lo disse come occupasse il tempo perché poco accenna il suo passato in maniera vaga ne parla dai 13-14 anni prima che aprisse la videoteca una ventina d'anni fa è stato sovvenzionato patrocinato ha dovuto pagare il mutuo si sarà indebitato per aprire una celeberrima oramai videodrome che non è una pellicola omonima masterpiece di cronome e poi si è naturalmente creato il suo mondo il suo mondo che può essere un microcosmo in cui non ha amplia gli orizzonti in cui diciamo cementa le sue certezze ma lui la sua vita l'ha fatta quindi il suo lavoro vabbè poi le ospita non so non in televisione ma chissà lo pagano no quindi innanzitutto appunto il dito contro chi mi addita e usa le dita per digitare su una tastiera in maniera screanzata e offendere offendere la mia dignità allora ma cosa è successo c'è anche un mio video non beccalivor ma perché mi trovavo a Livorno poi frusciante invogliato da chi questa faida fra me e luna questa diatriba o diatriba che si voglia scatenato quell'opinione su monicelli mi scrisse fatti vedere ma ci siamo già visti frusciante due volte dal vivo non c'è due senza tre chi era una controfigura mi stringe anche la mano altro io avevo qui non so se avete visto quel video ma chissà che mi ha baciato su chiotto non so forse questo mio hater che mette zizzani racconta bugie infatti un frusciante mi scrisse qualcuno mi dice che tu sei folle beh uno che è folle per sostenere questo mi stupisce che tu gli dia credito no? e che lo accrediti anche fra gli iscritti e non lo blocchi te sapere che è una mente deduttiva ha avuto tanti blocchi e di cosa parliamo? di The Irishman gli chiesi mi puoi realizzare ecco non c'è due senza tre dopo Smoke lo spaventa passi mi parleresti di The Irishman no voglio fare una cosa mia cosa ne pensi? beh la CGI però non funziona ma perché non chiamare come hanno fatto per esempio una volta in America no? un attore che assomigliasse a De Niro un appacino perché quella tecnica digitale computer graphics si è rivelata ma non credo non credo ho già espresso la mia di The Irishman il master è più assoluto ringiovanire ma avremmo visto un deep fake no? un De Niro ringiovanito digitalmente invece De Niro è De Niro con la sua età però liftato per conservare la sua integrità intatto marmoreamente quasi truccato digitalmente no? parliamo di quello davvero tu non realizzeresti una monografia su De Niro ho ascoltato su Gian Maria Volontè Christopher Walken si infatti ha dei poster lì e poi volevo comprargli un DVD no 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 volevo dargli 10 euro no no di questo abbiamo parlato una mezz'oretta ma perché mi trovavo a Livorno ma perché mi trovavo spesso in quel periodo in Toscana lo so sono un coraggioso incontri fuggevoli amorosi nell'Interland del mio osare del mio posare del mio non giudicare certo ci vogliono delle palle incredibili mamma mia questa non ha paura di niente poteva andare male l'incontro è andato benissimo beh avevate dei dubbi ma non mi riferisco all'incontro con Fruscianto quindi quest'altro mi scrive povera la madre del falotico parla della scuola 42 anni beh mi sono ho diplomato scuole medie col massimo dei voti poi percorso travagliato poi ancora il massimo dei massimi e scrivo per due riviste di cinema abbastanza rinomate quindi e scrivo anche dei libri potranno non piacervi però mi fate una cortesia ecco mi fate ecco quel piacere sono più veloce ultimamente ho avuto dei contatti strani ambasciatori che non portano pena ma e si ricordano di me ma ma chi sono quel personaggio di compagni di scuola ecco che ero imbranato infatti come verdone stavo spaccando spaccare tutto spaccare tutto spaccare spezza la roccia il capocollo vabbè ma vedete un altro mi dà dell'handicappato ma del nano perché si mi riprendo così a mo' di Orson Welles in quell'immagine iconica di quarto potere no? di mio sono fortunato sono privilegiato perché ancora non mi sono accasato nonostante ecco uomo amato uomo odiato uomo distrattato schermito vilipeso per i coglioni preso e da un coglione di mira proprio bersagliato vabbè bisogna essere compassionevoli in fronte di questi personaggi quindi frusciante se va in giro ha perduto quel senso un po' combattivo di quella giovinezza un po' smarritasi e questo è il suo maggiore difetto e quindi legge la rivista si informa un po' puoi di sue parole comunque non voglio sindacare in merito di opinare o discutere e quindi alla videoteca alle ospitate si è creato il personaggio e la sua vita io sono giovane ancora nonostante tutto ecco capelli persi pure acquistati ma io dimagrisco ingrasso cambio muto ero anche muto mi trasformo è lui di trasformersi in me è un po' prevenuto no non è un grande film però quella lì quella che sta con quel pelatino lì già sono stato lo sa ancora è quella che poi quella quella è una grande figa ecco ora avete capito l'inghippo mi fanno pena poi quei ragazzi che mettono i commenti sono iscritti per commentare il frusciante non hanno un video una playlist una cosa da loro detta e parlano attraverso le parole a volte di frusciante o degli altri frasi fatte bellissimo questo film fra Hitchcock semmai anche Fellini ci mette Fellini Pasolini così è di luoghi comuni poi mi contattano pure facciamo una streaming ma non mi riferisco forse mamma mia che pena fate la vostra vita da ragione John Lennon ma secondo voi Paul McCarney è morto nel 69 aveva preso quella macchina uscendo dallo studio di registrazione una certa rita si è andata a schiantare contro un albero ma chi mette in giro queste voci chi ha messo in giro la voce io sarei pazzo un malato di mente sì ne successero tante ma poi tutte le verità sono venute a galla e galli e quindi mi lasciate vivere per piacere grazie mi lasciate godere mi lasciate piangere soffrire recensire scrivere grazie prego Paul McCarney bellissima con la canzone Never But Is Fine stanno tutti bene remake quindi tornatore Mucina Paradiso Thierry Jones lì c'è Drew Barrymore una bambina prodigiosa come me e Kate Bakingsell non stava con quel regista lì quello qua ecco quello di un altro di me è catto di forza c'è con l'inferno quindi ti caga e ti ricaga ma chi se ne frega a me non sono invidioso geloso di frusciare lui ha la sua vita a me non voglio la sua vita io voglio la mia pian piano tutto sta tornando alla grande e anche risalendo al grande poi è schizzante o no tutto brillante o se ne dire eiaculante quindi veniamo ecco con Yoko Ono sono veramente un cazzo uscats